Ciao Don Davide, io sono il salutatore, ti ringrazio per il discorso che hai fatto di Natale e un saluto speciale a chi non vuoi fare? A tutti voi, un saluto a tutti e che sia un Natale veramente di amore di Gioce. Diamo questo segnale e cos'altro vogliamo dire? Io non so cos'altro dire, perché non ho parlato per tre ore a questo Natale, guardatelo, guardatelo su Canale 5 e sarà un bellissimo appuntamento e lì dirò tante cose. Ascoltatelo e vederlo, buon Natale a tutti, grazie.